La mancata realizzazione degli annunciati impianti di compostaggio di fatto ha creato le condizioni per far di nuovo precipitare la nostra regione di nuovo nella perenne emergenza e nella ricerca delle responsabilità con politici e amministratori che fanno da scarica barile ancora una volta il tempo è trascorso senza trovare soluzioni. Dura presa di posizione del presidente di Lega Ambiente Campania sulla crisi dei rifiuti è stato sufficiente un blocco dal termovalorizzatore per un problema allo stir ed ecco che i nodi vengono al pettine ed evidenziano ancora una volta l'instabilità dell'incompleto ciclo integrato dei rifiuti in Campania. Se da un lato in questi anni è cresciuta la raccolta differenziata con la Campania che raggiunge il 51,6% e si conferma tra le regioni più virtuose dell'intero mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del centro nord nel frattempo prosegue la nota del presidente di Lega Ambiente Campania Maria Teresa Imparato corre inesorabile il contatore a tempo della sanzione giornaliera di 120 mila euro inflitta dalla Corte di Giustizia Europea. Nel 2015 ricade nel silenzio assoluto sul portafogli dei cittadini. È evidente la necessità di procedere nei tempi più brevi possibili alla realizzazione degli impianti per l'organico non con le parole ma con i fatti concreti. Riguardo alle opposizioni alla realizzazione degli impianti conclude l'imparato di Lega Ambiente servirà un forte impegno e un atto di responsabilità delle pubbliche amministrazioni a partire da Napoli nell'operare con responsabilità, trasparenza e coerenza informando e coinvolgendo le comunità locali nella scelta dei luoghi per riguadagnare la fiducia dopo anni di annunci rimasti solo sulla carta. Sì, continua la saga campana dell'emergenza rifiuti. Parlare di emergenza rifiuti è uno schiaffo e tantissimi comuni che superano percentuali, che non sono quelli dell'obbligo di legge del 65%, ma percentuali che vanno di raccolta differenziata, che vanno ben oltre il 70%. Comuni ricicloni che sono un esempio virtuoso di una campania che ha superato da tempo la crisi rifiuti scegliendo una raccolta differenziata, raccolta differenziata che oltre il 50% è regione campania, che supera Liguria, che supera la Toscana. Oggi però se le scelte politiche non sono importanti e non vanno verso la costruzione e l'apertura di nuovi impianti, ritornerà la saga, ritorneranno le file di spazzatura e basta una manutenzione alla terza linea dell'impianto di inceneritore di Acerra o dei problemi agli stir che si ritrovano di nuovo i cumuli nelle nostre strade.